È un mondo di cui puoi fare tutto ciò che vuoi. Eppure, tu provi ansia, vero? Non capisci che cosa devi fare, vero? Che cosa devo fare? Ti darò una non-libertà. Guarda, con questo sono nati il sopra e il sotto. Però con questo è sparita una libertà. Ora sei costretto a stare in piedi sul sotto. Però questo ti tranquillizza. Perché il tuo stesso animo ha ottenuto un po' di semplificazione. E così puoi camminare. Tale è una tua volontà. La mia volontà sarebbe questa. Il mondo che ti circonda è il mondo in cui esistono il sopra e il sotto. Ma in questo tu puoi camminare liberamente. E se lo volessi, potresti anche cambiare la posizione del mondo. Quindi anche la posizione del mondo non resta sempre la stessa. È qualcosa che muta nello scorrere del tempo. E anche tu stesso puoi cambiare. Il mondo non resta sempre la stessa. 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 il mondo non resta sempre la stessa.